Non è un problema l'impasto di giunta perché nessuno me l'ha chiesto ufficialmente e dove ci fosse la richiesta dell'impasto di giunta non avrei problemi a parlarne sapendo tutti che vi sono delle posizioni che sono inamovibili. Quindi mi si può chiedere tutto meno che di toccare alcuni assessori ed alcune deleghe che io ritengo debbano essere gestite da chi ha meritato di gestirle. Così rispondeva ai giornalisti Umberto Di Primio, sindaco di Chieti, il giorno in cui comunicava il ritiro delle dimissioni. A una settimana di distanza però la situazione appare ribaltata. Il primo cittadino teatino infatti sarebbe pronto a un rimpasto di deleghe tra gli assessori, questo per quietare i dissidi dei cinque consiglieri comunali ribelli di Forza Italia. Di Primio può contare in aula su dieci fedelissimi, numero insufficiente per approvare il bilancio consuntivo. In seconda convocazione infatti serviranno almeno 14 voti. I consiglieri del partito di Berlusconi sono fermi su una richiesta, l'estromissione dalla giunta di Carla Di Biase, che per ironia della sorte era stata candidata alle regionali dal coordinatore forzista Nazario Pagano proprio per ricucire il rapporto tra Di Primio e l'assessore regionale Mauro Febbo. Ma la Di Biase non intende rinunciare. Io non me ne vado, ha dichiarato l'assessore, ho lavorato tanto e non c'è ragione per cui io debba andarmene. Inoltre era stata lei il 2 luglio a convincere il consigliere di opposizione Mario Troiano a rimanere in aula garantendo il numero legale per l'approvazione del bilancio e quindi salvando le poltrone dell'amministrazione. Ma la ragione per cui la Di Biase sembra saldamente in sella è un'altra. L'assessore recentemente ha abbandonato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, stesso partito del governatore Marco Marsilio. Se il sindaco dovesse lasciarla a casa farebbe uno sgarbo proprio a colui che l'ho convinto a ritirare le dimissioni. Il presidente Marsilio si è dimostrato straordinariamente vicino, mi ha più volte contattato in queste settimane. Tutti hanno in qualche modo fatto la loro parte per far sì che io ritirassi queste dimissioni. La cosa più probabile a questo punto è un rimpasto delle deleghe. La Di Biase, che attualmente è assessore al commercio, potrebbe finire a ricoprire un diverso incarico. In questo modo Di Primio spera di convincere i consiglieri di Forza Italia a salvare l'amministrazione.